buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video blog barra che chiericcio questa volta in casa perché mi sa che non farò più video fuori non si dice all'esterno niente fuori di casa lo farò una volta ogni tanto perché mi trovo meglio così allora niente mi devo lavare la faccia quindi andiamo subito al dunque poi me la risciacquo quando vado direttamente in bagno uso questa acqua micellare che ho terminato e ho ricominciato un'altra che serve sempre la stessa questa qua molto buona acqua micellare della garnier molto buona ho qua il mio dischetto struccante e non mi sono truccata molto ieri però oggi vado a togliere un po di residui se ne ho ma dubito perché mi sono ho fatto la doppia detersione 20 top e niente allora ops un po di qua ah che fresco che è è molto fresco si vedete no non è molto sporco ma una pena si una pena si ok vado a levare il grosso del trucco che avevo da ieri ecco qua e niente come state voi spero bene io altrettanto sto bene e niente mi sta piacendo fare questi video così le cricci vlog e tra l'altro le trovo molto belli e compagnia per chi volesse la compagnia già e nulla questo è adesso vado in bagno e poi ci vediamo ehm tra un secondo ok non sto a po perché se non la finisco più però vado a togliere un bagno ok mi lavo anche lenti già che ci sono perché non ho ancora lavati ho fatto colazione poco fa ci sono state due o qualche oretta prima vabbè intanto si sta scaricando la batteria mannaggia a me che è un telefono scarso no per l'amor di dio è buono ma dovrei cambiarlo perché non è il massimo già dovrei un po aggiornarlo questo telefono ok e siamo a posto adesso se il mio telefono vabbè mi conviene stoppare perché sennò qua la batteria c'erano proprio non lo so sto pensando di allora intanto chiudo questo vedete stile asmr e niente io adesso chiudo e ci vediamo dopo si dai ciao ragazze come state spero bene nuovo video altro un altro pezzettone di nuovo video come state io molto bene e niente dunque questo era un video appunto di parlare un po con voi se sentite rumori e cose varie e il e sono i cani giù quindi non ci posso fare niente ma vabbè se voi mi sentite tanto meglio perché ho le cuffie gli auricolari dell'iphone l'iphone 7 per esattezza e niente allora dunque stamattina mi lavato la faccia ho fatto colazione sono fatta la mia solita skin care e nulla ho fatto colazione ho preso il mio caffè lo so che a voi non mi interessano queste cose però io voglio farvi compagnia con queste chiacchiere che non servono a niente e fripole e spero che poi vi possa intrattenere non dico utile ma dire che è poco che è utile non è così però a me piace fare i video scusate se mi gratta il naso e continuo ma ho un progetto pazzesco e niente e niente quindi ho deciso che fanno questi video che ricci così che bello finalmente sto riuscendo a fare video con la ring light che prima non mi si pedeva bene e adesso invece mi si pede molto bene a partire che la luce della mia la luce delle lampadate non è il massimo però almeno ho questa che mi si vedono i cerchi negli occhiali non so voi ma da me io mi vedo poi non so se da voi mi vedete così ma è così e niente non mi tolgo gli occhiali perché non mi tolgo gli occhiali perché ho gli occhiali stamattina anche se ho dormito molto bene e rilassantemente bene non so se si può esprimere così ma è la verità ho dormito benissimo però ho le occhiali non so perché ma me le devo togliere ma al momento non ci penso neanche casomai se viene lo spirivizzolo di truccarmi mi trucco in un altro video ma prima carico il telefono perché il telefono mi sta lasciando a mezza strada quindi vabbè nel senso buono che il telefono mi sta scaricando quindi devo provare a caricarlo all'istante niente la giornata oggi non è bella per niente sta piovendo da ieri notte ad adesso stamattina infatti i barcaioli palesi secondo me non oggi ovviamente anzi è scontato che non escono perché purtroppo sta piovendo ma è una santa pioggia però non commenti io non toccherai questo tasto perché si sa che la santa pioggia non esiste però è così sta piovendo e sta facendo un un tempo vabbè per me io oserei dire di vabbè di cacca devo dire la verità perché è un tempo di cacca e niente e nulla eeeh che dire intanto mi stanno arrivando un sacco di risposte da altri youtuber niente e ve lo posso soltare innanzitutto ausilia ausilia donno ciao un bacio andate al suo canale che è molto bello e molto e molto come dire è un canale molto bello mi piace tanto eeeh ed è fantastico io adoro questo canale e non ho nulla da ridire non ho altre parole per esprimere perchè è la verità mi piace e basta parla di tante belle cose di tanti vari argomenti eeeh io per questo mi piace il canale che parlano come me di vari argomenti più o meno perchè io non sono come il canale d'ausilia però mi piace il video di Chiriccio il suo non è un video di Chiriccio se non sbaglio parla di psicologia eeeh di psicologia eeeh di cibo ovviamente cucina lei ed è un canale ah famiglia da fame quando devo andare a mangiare infatti mangio sempre guardandosi i video non lo so perchè mi piacciono devo dire la verità sono belli poi lei mi sta molto a cuore ed è una gioia si ed è una gioia già c'è ausilia ausilia tonno eeeh andatevi ricordatevi di iscrivervi sulla ricerca di google no scusate di youtube nella in se avete capito nella cosa nella lente di ingrandimento eeeh ausilia tonno ausilia tonno eeeh eeeh e troverete il suo canale youtube niente poi eeeh eeeh ciao ciao ausilia allora innanzitutto oddio mi sta dando fastidio questo cassetto aspettate che lo chiudo perché non lo posso portare mi sta facendo fastidio alle ginocchia mentre sono seduta scusate un secondo che chiudo tanto sto facendo tutto in diretta non riesco a chiuderla perché non è detto ok chiuso adesso non dovrebbe dare più fastidio allora altri rumori sentite allucinanti e non la sedia che ci vuole ma pazienza come ho dormito molto bene ve l'ho detto e anche se il tempo non è il massimo ho fatto tuoni lampi di tutto quindi così non si può casca tutto il pannello quello che dico io perché è sempre pulito al naso e va bene allora 10 per cento di batteria rimanente mi devo sbrigare perché altrimenti non so come fare no nel senso che sto parlando già troppo quindi non dovrei tanto di pagare allora ragazze mie e ragazzi miei sì il tempo non è il massimo ma me lo tengo per quello che è dunque cosa ho intenzione di fare oggi ho intenzione di truccarmi ma non mi trucco adesso mi trucco dopo perché questo era un video tanto per vedere come mi sto tenendo la pelle io sì lo so oggi l'occhiaio che mi cascano ai piedi ma pazienza adesso tra poco mi trucco quindi vedrete tra poco dopo questo video mi vedrete in un'altra maniera anzi non lo so se metterlo in privato ma penso di sì e poi lo pubblico stasera quindi volevo addirittura programmarlo e farlo uscire in un altro giorno ma tanto li faccio sempre video alla cavolo di cane quindi non lo so alla cavolo di cane no perché non mi pare però dovrei fare i video più brevi e quando ne voglio più quando li faccio più brevi poi risultano troppo corti se risultano se li faccio lunghi sono troppo lunghi boom vabbè vorrei dire decidetevi perché non lo so a me piace fare sia lungo che corto però a me piacciono i più video lunghi io video lunghi li guardo molto non so perché ma ho la faccia tosta di guardarli belli lunghi ma a volte sono più lunghi di non so cosa cioè più lunghi di la qualissima già e niente quindi cosa sento la qualissima no per dire che sono lunghi un chilometro quindi vabbè niente bene ragazze ci vediamo al prossimo video pollice all in su commento iscrizione e attivate la campanella bacio ciao